Infine, vi parlo dell'ordinanza. L'ordinanza, come tutte le ordinanze, crea dibattito. Questo l'avete capito, no? Allora, io lo vedo positivamente questo dibattito. Siccome siamo una comunità attenta alle regole, è giusto che il dibattito ci sia. Allora, le mascherine quando le devo portare? Beh, se non sei nel giardino di casa da solo o con i tuoi familiari, le uscite vanno sempre accompagnate dalla mascherina. Ripeto, le uscite vanno sempre accompagnate dalla mascherina, nel senso che se si esce di casa, ci sentite la mascherina.